In Star facciamo i ragù di casa per tutte le famiglie italiane. Invece di due carote ne usiamo 130 kg. Invece di tre atti di carne ce ne mettiamo 600 kg. Gran Ragu Star, come lo fai tu ma più in grande? Star in famiglia. Il Gran Ragu lo facciamo anche con la salsiccia fresca. Provalo! Scusate, ma lo facete anche per pulire? Quello i ragù si deve per pulire. E poi sinceramente tutte le proporzioni non è che si trovano, sicuramente. Pochissime, come si chiama? C'è sempre tre soldi da 21 anni in Star. E mai che cambi azienda. Non male che c'è tre soldi. Vende un'altra azienda. Maronamico, sono sceme.